i nostri figli e chiuderli nelle classi separate e io penso, io voglio combattere perché questo paese non diventi un paese dove l'unica legge è la legge del più forte, noi dobbiamo combattere per questo, questo è il nostro dovere, dobbiamo combattere perché i nostri figli non vengano trattati male, perché mio figlio un giorno non venga trattato come uno zingaro di merda, il mio figlio che è italiano non deve sentire queste parole, zingaro di merda torna a casa tua, grazie!